Ciao, con questa ricetta partecipo a contest su Instagram ancora per San Valentino, quindi se ancora non mi segui sul mio profilo Irex Fornelli, ti invito a farlo. Vediamo quindi come preparare i cuori di biscotto con mousse senza panna al cioccolato e peperoncino. Per prima cosa preparo la base al cioccolato e biscotti, sciolgo il cioccolato fondente in un pentolino e lo lo scintiapidire. Intanto rompo le uova all'interno di una ciotola, le sbatto leggermente, verso il cioccolato, mescolo, aggiungo i biscotti sbriciolati, amalgamo bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Verso il composto all'interno di una coppapasta a forma di cuore. Compatto con il dorso di un cucchiaino con le mani, tolgo la formina e ripeto questa operazione fino a terminare tutto il composto di biscotti. Li ripongo in frigorifero e li lascio riposare per un'ora. Nel frattempo riparo la mousse dividendo i tuorli dagli albumi, sbatto leggermente i rossi e aggiungo il cioccolato sciolto. Questa volta con l'aggiunta di un pizzico di peperoncino in polvere, mescolo, monto gli albumi a neve ferma, scusa a cui mi sono dimenticata di filmare e li incorporo delicatamente dal basso verso l'alto per non fare smoltare il composto. Sulla metà dei cuori verso la mousse, copro con un altro cuore e poi con la mousse. Facili e veloci da preparare, questi cuoricini sono perfetti da servire il giorno di San Valentino per concludere con dolcezza una serata romantica. Se la ricetta ti è piaciuta regalami un like, condividila sui social ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. A presto, bacioni!